Come sono cadute Spesso Anche i giganti Palla 2 alzata in questo momento Con il primo possesso che sarà per la Germanis Semash Christon Fischi per Il primo attacco La formazione di coach magro della valle Spalla canestro Mismatch tra Christon e Jefferson Tattico questo molto interessante Gabriel col tiro da 3 punti Solo ferro, box out E rimbalzo difensivo portato giù da Gombo Primo attacco per il banco di Sardegna Jefferson per Tyrin Punta Aralan Populos Fa circolare per Krushlin Uscita dai due blocchi in serie di Jefferson Pick and roll poi con Gombo Ancora Jefferson sul riblocco del francese Pallone in angolo Krushlin da 3 punti Molto corto Lui stesso però si avventa sul rimbalzo Offensivo Fa uscire il pallone Aralan Populos Piedi a posto da 3 punti Sblocca così la partita Il greco in canota numero 33 Tiro peraltro da 2 punti Non da 3 In ogni modo Primo canestro della partita Per Aralan Populos in crescita Dopo un inizio di campionato abbastanza opaco Bilan il giro sulle piede perno Subito fallo di Stefan Gombo Molto molto interessante La partita nella partita tra questi due giocatori Gombo è quarto per percentuale da 2 punti Questa Serie A Unipol 6 Bilan viene subito dietro Ed è quinto Primo fallo della partita per Nel lungo da Senclo Guadalupa rimessa dal fondo per Semash Christon Next Tortona Da un'occhiata verso Petruccelli Lo pesca molto bene Sotto canestro con fallo Si presenta così nel match John Petruccelli La spinta da dietro Da parte di Brintairi che l'aveva un po' perso sulla rimessa Si dispera Tairi Sarà il libero supplementare Per John Petruccelli Miglior difensore della scorsa Serie A Completa l'opera E regala Brescia il primo vantaggio Sul 3 a 2 Indicazioni difensive comandate da Coach Magro Tairi porta il pallone nella metà campo d'attacco Seguito proprio da John Petruccelli L'uscita Di Jefferson Subito il blocco Di Combo con Una buona difesa inizialmente sulla pick and roll Per la Germani Alla fine Aralan Populos si inventa Questa buona soluzione Con la palleggia resta e tiro vincente Per Il vantaggio Dinamo Sulla 4 a 3 Christon spalla canestro contro Jefferson Che difende bene Ma è semplicemente Più bravo di lui Il prodotto Di Xavier Gran canestro Cadendo all'indietro 5-4 Botta e risposta Continui Jefferson in angolo Fuori Aralan Populos Poi Tairi La finta mette il pallone per terra Contro Petruccelli Manda per aria il tiro Va non lontano Dal potenziale gioco da 3 punti Saranno Due tiri liberi Per L'ex Ostenda Nel campionato Vega La finta A bocca Petruccelli Allora Va dentro Molto molto rapido Come spesso gli accade In penetrazione Brin Tairi Giocatore che sta viaggiando Col 68,4% Ai liberi Segna il primo Nella classe 98 Originario della New Jersey Abbiamo visto Miro Pilan Ponte a tagliare Fuori a rimbalzo Gombo Secondo libero Per aria Anche questo dentro Per Brin E Tairi Tacca Brescia Per rispondere Miro Pilan Attende della valle Per l'end off Lo show accennato Di combo Si crea lo spazio Per il Palleggiare Questo special Fa la sera di mini Sei punti Per lui A referto Sugli otto Di squadra Per il Banco di Sardegna Qui riposto Di Gabriel Per Bilan Che però non aveva Posizione Si accusa Dell'errore Kenny Gabriel Palla persa Per la Germani Indicazione Dalla panchina Di Nenad Markovic Proposto Le prime settimane In Sardegna Una Dinamo Molto quadrata Dal punto di vista Difensivo L'anima slava Come l'ha definita Anche il presidente Sardara Tiro da tre punti Per Filip Krushlin A segno Una delle specialità L'ex Zibona Zagabria Che si è visto poco In questa stagione Va a dare qualcosa In più In questa partita Così importante Per la sua squadra Christon Vede in angolo Petruccelli Il pallone Racconto però Da Gabriel Che manda per aria Il tiro Realizzato Per tenere In qualche modo In linea di galleggiamento La Germani Brescia 11 a 7 Tidy Aralan Populos Krushlin Gira sul blocco Prende un'altra tripla Questa è lunghissima Che imbalzo comodo Per Bilan E poi Della Valle Blocco in transizione Di Bilan Crea lo spazio Per la tripla Non la prende Della Valle C'è un accoppiamento Molto vantaggioso L'attaccare per lui Contro Gombo Crea la separazione Per lo step back Poi Chiamata di Palming Qui Della Valle Voleva attirare Gombo Sulla finta Con l'ecitation Ma secondo La segnalazione Di Borgioni C'è il Palming Allora Palla persa Per Brescia Che deve Qua entrare In maniera decisa In questa partita Prova ad approfittare Invece La Dinamo Subito aggressiva Jefferson Accompagnato Lontano da canestro Da Bilan Poi si stacca E la Croato E non perdona E la nativo Di Flower Mount Texas Doppiata Brescia Sulla 14 a 7 Inizio forte Nella Dinamo Attenzione Al pallone In angolo Per il tiro Da tre punti La risposta Di Semaj Christon Con tanto spazio Lui non è esattamente Uno specialista Dalla lunga distanza Ma qui Si è potuto esimere Ex Tortone Pesaro Per il meno 4 Brescia Tahiri Spunto lontano Dall'area Da Petrucelli Poi Tahiri Trova lo spazio Per la penetrazione Ma sbaglia La conclusione Fallo immediato Di Krooslin Per non concedere La transizione A Petrucelli Buona anche L'apertura Qui in angolo Demiro Bilan C'è rapidamente La situazione Un playmaker Raggiunto Gran passatore E la pivot Da Sebenico Della Valle Un show profondo Ancora per Combo Che poi va a prendere In post passo Bilan Si svita sul perno Passo di incrocio Gran canestro Di Miro Bilan Maestro di fondamentali Ficino a canestro Per il meno 2 Brescia 13 di media In questa stagione Markovic lo ha affrontato In Grecia Avete di avere qualcosa In serbo Nella difesa Suli Lui Intanto continua a realizzare Dall'arco Il banco di Sardegna Si porta nuovamente Sulla più 5 17 a 12 Christon D'altra parte Legge E la rolla di Bilan Poi fa tutto da solo Manda sul ferro Rimbalzo di Combo E poi riparte Tyree Comanda le operazioni In transizione Vuole giocare Con Aralampopulo Su spalle a canestro Vuoto L'anticipo di Gabriel Finta E poi la stoppatona Di Miro Bilan Con recupero E Christon Vado ad amministrare Nella possesso offensivo Ancora cercato Bilan Vicino a canestro Contro Combo Spende il affanno Il francese Sta provando A reggere In queste situazioni Di uno contro uno Ma c'è Già la staffetta Con Usman Job Anche per proteggerlo Dai falli Questo è già il secondo Per l'ex Nancy E subito Regus Vicino a canestro E' una difesa Contro Bilan Catechizzato Quindi Stefan Combo C'è anche Cuonu Sul parquet Per Brescia Segnato per Della Valle Circolare per Gabriel E poi Petrucelli Copiato con Aralampopulos L'attacca dal falleggio Va verso destra Decisa Appoggia il vetro Fa tutto benissimo John Petrucelli Per il meno tre Brescia E' partita benissimo In questa partita Ma si è sempre tenuta In linea di galleggiamento E' partita che Insomma è assolutamente Equilibrata In questo inizio Job E' la blocco Per Tyree Può attaccare Petrucelli Ma finisce in bocca La difesa Col cambio di mano Proprio davanti a Petrucelli Che lo aspettava Lui da difensore esperto Quale Chiamatessa Della Valle Della sua serata Più sei ripristinato Dal banco di Sardegna E' attirato in una trappola Della valle Bilan Per Quonu va dentro In penetrazione Viene stoppato da Job Ma intervento Era viziato Da un fallo Rivediamo Contatto Secondo Martolomeo Con la parte bassa Del corpo Tanto ci sono cambi Per Magro Con i Petrucelli E Gabriel Mentre Barnell E CJ Messinburg David Quonu In lunetta 76,2% Questa stagione Per lui Sta viacciando A 6 di media Il giocatore Di Villafranca Di Verona Con origini Ganesi 1 su 2 Il mazzo Catturato Dalla Dinamo Raman In regia Alessandro Capelletti Un detto Tra i più solidi Una vittoria Nella Taglierso Sulla Reier L'uscita dallo stagger Di Krogin In seguito Da Della valle Bellissima lettura Solo gioco a 2 Laterale Manda a schiacciare Usman Job Per il 22 a 15 Ottimo inizio di partita Anche per Philippe Kruslin Quonu Della valle Qui si va a cercare Quell'iniziativa Di Messinburg Pescato col fallo in attacco Palla persa Per la Germania Questo è il gioco a 2 Sul lato In qualche istante fa Funziona l'asse Kruslin Job Capelletti Che nel palleggio Vivo Job va a bloccare Per Aralan Populos Chiamato in post Gabriel Ancora sul parche Tiro in fade away Per Aralan Populos Sbaglia Rimbalzo Offensivo Job Correzione Vincente Contro Bilan Subito Cattivo Nella partita Usman Job Time out in campo 24-15 Più 9 Dinamo Banco di Sardegna Sassa Tenere vive le speranze Ormai Molto flebili Di agganciare i play-in Per la Virtus Invece c'è la corsa Ai play-off E anche Per blindare Insomma Un piazzamento Nei play-in Per la squadra di Luca Banchi Intanto si torna Sul parche Bilan Spalla a canestro Contro Job Duello che promette Scintilla Messinburg Mette il pallone Per terra Attacca Il cuore dell'aria Va a segno CJ Messinburg Lex Limoge Cuscine bene Dal time out Tanta pressione Di Cuonu Qui su Cappelletti Ultimi 90 secondi Del primo quarto Tyree Attacca Messinburg Attende l'uscita Di Kruslin Pensa aggressiva Per Barnell Pensa poi stampato Sul blocco Job Sbaglia Tep out Rimbalzo Bilan Gabriel Che riesce a mantenere Il pallone in gioco Cuonu Spalla a canestro Barnell Gran giro Dorsale Poi la stoppata Imperiosa Usman Job Arriva anche il fallo Di Bilan E' andato su Un'altra parte C'è anche Gentile Sulla parquet Per Cappelletti Serve Banco di Sardegna Banco di Sardegna Propone 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 Sol a meno 4, 10 secondi ancora a disposizione per il Banco di Sardegna, ultimo attacco nel primo periodo accelera, andando a sinistra Cappelletti si arresta e realizza, il canestro della più 6 termina il primo quarto, la preghiera di Messenburg non è accolta, 26 a 20 in favore della formazione padrona di casa partita che è iniziata forte con atteggiamento direi atteso da parte dei partitori. I padroni di casa subito molto aggressivi in questa partita, ottime premesse in questo match, la gara ha fatto subito scintille, vedremo come si evolverà in questo secondo quarto che inizia con il primo possesso nel Banco di Sardegna Gentile, Tyree Mecchini, tiro frontale molto morbido, assegno per il più 8 nel Banco di Sardegna, Alfonso Mecchini riportato nel suo ruolo di alla piccola. Pena è stato inizialmente chiamato a sostituire Bencius, un 4 naturale, non si è trovato tanto a suo agio in quella situazione tattica, intanto risponde Brescia con David Cuonu. Tiene i due possessi piedi di distanza, la capolista, Gentile, affrontato da Parnell, due sono stati ovviamente compagni di squadra. E a Sassari, Cappelletti parte verso destra, roll di Job, Cappelletti però sbaglia, il freddo di fatto è la pallone a Barnell, il fallo per fermare la transizione. Questo è il fallo di Cappelletti su David Cuonu. Poi rivediamo anche l'ultimo canestro di Alfonso Mecchini, Golden State Warriors, i primi due punti della sua partita. Registriamo anche il ritorno in campo di Brandon Jefferson al posto di Cappelletti. Cuonu, risposta sul perimetro, riceve Messinburg, attacca lungo la linea di fondo, manda per aria il tiro che è sbagliato, rimbalzo lungo, preda di Alfonso Mecchini. Mecchini attende Tairi. In fronte a sé Messinburg, vediamo se lo sfida nell'uno contro uno il blocco di Job. Mecchini arma la mano di Gentile dall'angolo, assegno la Dinamo con la quinta tricla di questa serata. Cerirla a 31 a 22, più 9, in a favore della quintetto di Nenad Markovic. Post basso per Barnell contro Gentile, altro mismatch invitante per Brescia, tiro da tre punti, assegno. Achele per tenere ancora in scia a Brescia. Un talento offensivo, sta tenendo in qualche modo a contatto la squadra di coach magro. Cerca però una maggiore continuità in questa gara al Palastra di Migni. Gentile, anticipato quel post basso di Job nel tocco di Kenny Gabriel. Gabriel che peraltro va a uscire. Suo posto John Petruccelli. Sempre sei punti di differenza tra le due squadre. Dinamo che, come detto, vuole cancellare il brutto ricordo della gara d'andata, mentre qui sta per scadere il cronometro di 24. Tairi si prende un tiro. Non trova altro che il tabellone. 110 a 65 all'andata con Brescia che trovò anche il 52. A un certo punto, intanto Canestro con fallo. Faccia cattiva di Jason Barnell. Qui si fa tamponare da Mekinni, tiene il contatto. Un po' bravo a conservare l'equilibrio. La spinta di Mekinni. 2 più 1 per... E la prodotto di Jacksonville State. Il carriera da pro si è sviluppata per interi in Italia tra Cantù, Brindisi e Sassi. Si torna sul parquet. Momento favorevole, dunque, alla capolista. Soltanto poco fa Sassi ha avuto 9 punti di vantaggio. La tripla di Akele, il gioco da 3 punti di Barnell, per rimettere subito in carreggiata la Germani. Gentile. Sulla difesa di Kwonu. Prendersi il pallone. Jefferson, le mani rapidissime di Petruccelli. Poi anche quelle di Akele. Gran furto qui per la Germania. Akele! Infila la schiacciata. Del meno 1. 31 a 30. Abbiamo avuto un saggio delle qualità difensive di questa squadra. È andata ad aggredire il pallone qui. Impreparato Jefferson a Akele, poi, per nulla spaventato dal tentativo di stoppata di Musman Job. E allora, come ha detto, meno 1 Brescia. Gentile. Vediamo come risponde il banco di Sardegna. In mezzo alle gambe Jefferson ha pressione ancora furiosa di Petruccelli, che però, secondo l'interpretazione arbitrale di Bartolomeo. In questo caso usa troppo le braccia. Questo è il replay. Dunque fallo di Petruccelli. Ed è il secondo anche per lui. Per andare in panchina c'è Della Valle. Gentile. Propone Kruslin. Non riceve, si attende. Invece Jefferson ha un passo dall'anticipo. Ancora Messenburg. Difficoltà per la Dinamo contro. Uno step in avanti difensivo della Germania. In questo momento della partita Della Valle va a sporcare un altro pallone. Job tiro cadendo all'indietro. Gran canestro di Usman Job. Job in un momento molto complesso con Brescia, che stava difendendo fortissimo anche in questo caso. Sesto punto per Job, consegnato per Messenburg. Vuole il pallone in post Barnell contro McKinney. Ha un avvantaggio in termini di tonnellaggio. Prova a sfruttarlo. Lascia lì una palla parlante. Achele col taglio. E altri due appoggiati al tabellone per Brescia. Sempre meno uno. 33 a 32. Partita intensissima. E giro. Rubiti difensivo notevole. Ora per la quintetto di Magro. Blocco di McKinney per l'uscita di Jefferson. Fatto verso sinistra contro Della Valle. Lo vuole sfidare nell'uno contro uno. Jefferson gentile extra pass. McKinney in ritmo da tre punti. Solo ferro. Job spinto. A rimbalzo. Aveva preso posizione molto bene contro Achele. che è andato a spingerlo. Allora. Primo fallo nella partita per il 45. Con buon impatto. E qui riuscita dalla panchina. Sette punti a referto per Achele. Molto pronto. E il giocatore cresciuto nel vivaio. Nella Reier. Venezia. In la panchina invece Alfonso McKinney. Torna Aralampopoulos. Kruslin sulla rimessa. Taglia dentro Jefferson. Oltre l'arco c'è invece Gentile. Ancora Jefferson. Su di lui Christon. Tallone sparato in mezzo angolo. Gentile lo fa riuscire. Attacca il closeout. Qui Aralampopoulos. Altro fischio. Qui. Proprio sulla closeout. Sbilanciato. Barnell. Fallo. Uno degli ex di questa partita. Lui è soltanto il primo. Torna in panchina Achele. Il fattore. Fin qui per Germani. Jefferson. Jop. Torna anche Bilan. Il fallo in attacco. Altro fischio di Bartolomeo. Fallo di Brandon Jefferson. Qui si libera la marcatura di Messinburg con questa spinta che non sfugge. Gli occhi degli arbitri si consulta con Massimo Bulleri. In panchina Nenad Markovic. Dal palleggio Messinburg. Bilan. Consegnato per Della Valle. Qui si stacca. Bilan capisce tutto. Kruslin contro piede. Due contro due. Kruslin tiene l'equilibrio. Ma sbaglia. La conclusione in corso. Dall'altra parte Messinburg. Aralampopoulos. Ferma subito il cronometro. 5.30. Da giocare nel secondo quarto. Fallo del giocatore. Ex Fortitudo Bologna. E Reijer Venezia. Sull'accelerazione di Messinburg. vediamo se Brescia riesce a girare l'inerzia dalla sua parte in maniera decisa. Questo buonissimo momento difensivo. Messinburg. Barnell fuori. Kruslin in mezzo alle gambe. Può attaccare Aralampopoulos. Va invece vicino al canestro perché c'è un mismatch ben più invitante. ed è quello tra Barnell e Jefferson. Ovviamente con quella taglia fisica e una preda, un bersaglio invitante insomma per le squadre avversarie. Due tiri liberi per Barnell. 77,8% ai liberi in questa stagione. 7.8% di media. Con 3.7 rimbazzi e 2.1 assist. Due stagioni a Sassari per lui tra il 2020 e il 2022. Curiosamente fu l'Enfipi dei quarti di finale 2022 vinti con un upset dalla Dinamo. Proprio contro la Germani. Si presentava come terza nel tabellone dei playoff. La Dinamo di Bucchi arrivava da sesta. Pure seppe guadagnarsi la semifinale contro l'Olimpia Milano. Gentile intanto da tre punti. Importante assegno per ricacciare indietro Brescia. 36 a 34. Partita vivace ancora nuovamente sui binari dell'equilibrio della valle. Fuori Barnell. Vuole Bilan. Christon. Crea lo spazio per il tiro dalla media distanza con parabola. Morbidissimo. Rilascio fellutato per Semash Christon. Chiamata numero 55 di Miami Heat nella Draft NBA 2014. Parità 36. Jefferson qui perso in angolo da della valle. Non perdona. A proposito di rilascio fellutato. Dimostrato di averlo anche Brandon Jefferson. un po' grande impatto con l'apprentisi negativa di Whittaker. Intanto anche la Dinamo prova a crescere nella metà campo difensiva. Krushlin per Jefferson. Da tre ci prova. Jefferson sbaglia. Serie di tocchi. A rimbalza la fine. Controlla della valle. Lancia subito Barnell. Transizione per Brescia. Va fino in fondo. Semash Christon per pareggiare nuovamente. Quota 38. 3.45 da giocare nel secondo quarto. Gentile. Nono punto intanto per Christon. Si allacciano. Messinburg. Nihana Lampopulos. Della Pallo e Della. Giocatore in canota numero 5. Di coach Magro che viene richiamato in una panchina. Torna David Cuonu. La concentrazione di Markovic. Resce dal blocco Teidi. Riblocca la Lampopulos. Poi va Gioppe invece a giocare a due con Jefferson. Attacca qui il recupero Aralampopulos. Canestro con Pallo per Ousmane Gioppe. Per lui sono otto nella partita. Bella palla sotto di Aralampopulos. Ma su deciso Gioppe. Altri due. Con la possibilità anche del libero supplementare. Pallo. Qui. Di Della Valle. Non l'ha presa benissimo. Magro intanto va a spiegare qualcosa a Barnell. Mentre Gioppe è alle prese con il libero aggiuntivo 73%. In fine stagione per lui realizza. E' colta la Dinamo avanti di tre punti. 41 a 38. Siamo quasi alla volata finale del primo quarto. Prende posizione spalla canestro. Bilan contro Gioppe. Vede il taglio di Cuonu. Recupera lo stesso Bilan. La difesa molto fisica di Gioppe. Gli nega il tiro. Gabriel qui fa saltare. Palleggio. Resta il tiro di una pulizia stilistica enorme per Kenny Gabriel. Quarto punto per lui. E meno uno ripristinato. La Brescia. Jefferson. Gentile. Piazza il blocco. Chop. Short roll. Fa girare per Jefferson. Se la sente da tre punti. La mette. Brandon Jefferson che scalda la mano. Sassari sul più quattro. Stato devastante a tratti contro la Virtus Bologna. Jefferson. Che problema in più invece a Venezia. Cuonu. Recupera il pallone. L'attacca Gentile che commette il fallo. La spinta segnalata da Giovannetti. Cronometro fermo a due minuti e ventisette secondi dalla pausa lunga. Per cui abbiamo rivisto l'ultimo canestro di Jefferson. Otto punti per lui. Intanto si va a tirare per Brescia. Il primo è sbagliato però per David Cuonu. L'altra disposizione per il giocatore cresciuto. Menzana Siena. Questo va dentro. L'auso di Petruccelli in panchina. Più tre palle in mano per il banco di Sardegna. Tayri. Uscita in punta di Gentile. Serve ora Tayri. Piazza e blocco. Job. Va a ribloccare. E poi roll fino in fondo. Usman Job con queste ricezioni dinamiche. È molto spesso pericoloso. Job arriva in doppia cifra. Criston dall'altra parte ad attaccare. Jefferson canestro con fallo. La risposta immediata di Semash. Criston fa valere ovviamente il fisico contro Jefferson. Tiene bene il contatto. Abbassa la mano Jefferson commettendo il fallo. Possibilità per Brescia di andare sul meno due. Kenny Gabriel sul parche esce Jefferson. Anche lui con due falli. Così come Gentile e Gombo per il banco di Sardegna. L'altra parte sono due invece per Bilane e Petruccelli. 81,7%. Ai liberi per Samash Criston. Campione della Liga a sebbene la 2020 con il Baskonia di Busco Ivanovic. Brescia sbaglia per rimbalzo per Cappelletti. L'avvio. L'azione offensiva del banco. Esce dal blocco di Job Gentile. Si prende ancora il blocco del compagno. Finta e consegnato. Poi restituisce al capitano. Bianco blu. Aralampopolo sperso qui. Un po' sul perimetro da Brescia. C'è anche l'extrapossesso per la Dinamo dopo quella. Buon lavoro a rimbalzo d'attacco. Va dentro deciso. Cappelletti c'è il fischio arbitrale. Fallo nella difesa di Samash Criston. Soltanto il primo per lui. Ha visto l'amversario un po' sbilanciato sulle gambe. L'ha aggredito dalla palleggio Cappelletti. Due tiri liberi per lui. Oggi ritrova l'allenatore chiave nella sua carriera. Come è Magro che ha condiviso l'esperienza a Omegna tra il 2014 e il 2016. Primo libero sbagliato da Cappelletti. In questo errore sono 35 su 40 per lui in questa Serie A. Rattore di liberi solitamente molto affidabile. Segna il secondo Cappelletti. Più 4, Banco di Sardegna. 4-7, 4-3. Criston. Si apre Achele. Arriva della Valle per il consegnato. Lo show di Job. Ancora della Valle. Stavolta va a sinistra. Manda per aria. Una conclusione. C'è il fallo della difesa. Due tiri liberi per Medio della Valle. La miglior tiratore di liberi. Questa Serie A. 91,7% per lui. Markovic discute con Giovannetti. Non ha gradito l'ultima chiamata. È stato richiamato il coach di Doboin, Bosnia. Arrivato dopo l'esperienza nel campionato francese. Primo libero realizzato a Medio della Valle. Riflette magro in panchina. La squadra. Una buona reazione difensiva nel secondo quarto. Ha risposto. Un avvio aggressivo nel Banco di Sardegna. Conteggio sempre in equilibrio. Sul più 2 per i padroni di casa. Rimesso dal fondo per Tidy. Servito Cappelletti. Andiamo per entrare nell'ultimo minuto del primo quarto. Riceve Aralampopoulos. Restituisce a Cappelletti. Ricacciato indietro. Job. Mezzo alle gambe. Cappelletti. Step back. Tiro da tre punti. Gran canestro. Di Cappelletti. La bomba del più 5. Sta crescendo in termini di fiducia. Questo frangente della stagione Cappelletti. Quonu fuori Messenburg. Si alza per bloccare Achele. La finta di Messenburg. Quonu da lunga distanza. Mette una gran tripla. David Quonu. E subito meno 2. Time out in campo. 35 secondi. 9 decimi. Per concludere il primo tempo. Un po' distante sulla close out. Cappelletti. Lo punisce Quonu con questa gran bomba. Quante soluzioni interessanti. Sono arrivate anche dalla panchina per Brescia. che ha visto realizzare tutti i giocatori che sono scesi in campo. Fino a questo punto. Grandi piccoli. 57,5%. Dunque sicuramente non una novità. Intanto volata finale. Dalla secondo quarto. 35 secondi. Va a giocare poco meno Cappelletti. Dalla palleggia a costruire. Sulla difesa di David Quonu. Si propone per la ricezione. Tairi attacca verso destra. Va dentro contro. Quonu appoggia il vetro. Sbaglia. Job. Tocca due volte. Rimbalza la fine. Freda di Barnell. Allora ultimo possesso. Nella secondo quarto. Ferra Brescia. Si gioca con un solo cronometro. Spalla canestro. Criston contro Cappelletti. Fa sportellati. Arriva l'aiuto di Aralan Populos. Fuori Messinburg. Si porta il pallone. Oltre la linea di fondo. Qui Samash Criston. Dunque nulla di fatto. 8 secondi. Poco meno a disposizione. Invece della Dinamo. Tra. Chiudere avanti il primo tempo. Tanto meno ci proverà la squadra di Markovic. Capita il pallone a Tairi. La difesa di Barnell va a sinistra. Tairi rapidissimo. Canestro. Con fallo. Potenziale. Gioco da tre punti. Brin Tairi. Un treno in corsa dal palleggio. Molto arrabbiato Barnell. 2 più 1. Per il prodotto di Ole Miss. E sbilanciato con il cambio di direzione. Barnell. Tairi. Quando prende velocità. In penetrazione. Davvero un cliente pericoloso per tutti. Un secondo in serie. Si due sul cronometro. Tairi. Colla libero. Assegno per il più 4. Più 5. Dinamo. 53 a 48. Time out magro. Vuole parlarci sopra. Per in precedenza. Sarà Christon. Come Tairi. Il pallone in gioco. 1.6. Si va col pallone per Barnell. Cerca il contatto. Manda per aria la preghiera. Che non viene accolta. Voleva un fallo Barnell. Per fare un po' nervoso. In questo momento della match. Squadra che tornano negli sfogliatoi. Tra poco l'intervista di metà partita. Vantaggio Dinamo. 53 a 48. Dinamo guidata dagli 11 di Chop. Pone anche 5 rimbalzi. 4 palli subiti. Buonissimo impatto sul match per lui. 11 anche i punti dall'altra parte per Semache Christon. 53% da tre punti. Per Sassari. 77% da due invece per Brescia. Partita che promette. Tanto anche nel secondo tempo. Breve intervista di metà partita con Ousmane Joff. Sta per arrivare al nostro microfono. Questo è il recap statistico. Dopo 20 minuti. Ancora grande performance da tre punti per il banco di Sardegna. 8 su 15. Come detto dall'altra parte. Pochi tiri dall'arco per Brescia. Soltanto 7. Di qui 4 però a segno. Va bene Achele. Ousmane. Un grandissimo primo quarto. Un grandissimo primo tempo. Soprattutto dal punto di vista offensivo. Eppure Brescia è praticamente lì. Cosa fare nel secondo tempo? Nel secondo tempo dobbiamo migliorare la difesa. Perché prendere 48 punti nei primi due quarti. È un po' troppo. Soprattutto quando giochi in casa. E quindi bisogna migliorare quello. L'attacco sta andando bene. E l'unica cosa che mi viene in mente da migliorare il secondo tempo è la difesa. Grazie mille. Prego. Perchè portare a casa un altro scalpo importante dopo quelli. Virtus.Bologna e Venezia. Si riparte con Semash Christon. Verso sinistra. Christon esplora la difesa di Tyree. Vede il taglio di Gabriel che però perde la maniglia. Nulla di fatto per il primo attacco del terzo quarto per la Germani. Tyree. Riceve Aralampopoulos. And off ancora per Tyree. Combo va a bloccare per Aralampopoulos in punta. Restituito il pallone a Tyree. Passa di Cancora la ricerca di un avantaggio da attaccare. Aralampopoulos ha una visione vicino a canestro per Stefan Combo. che si sblocca nella partita. Ma il merito di questo canestro è da condividere senz'altro con il greco di Egaleo. Il fischio. Rivediamo l'assist sotto di Aralampopoulos per Combo. e altro fischio subito dopo la rimessa. Tra l'altro il fallo è di Brandon Jefferson. E fischio che manda Medeo della Valle in lunetta. Il primo tiro libero è realizzato per il giocatore in canotta numero 8. avversario del Banco di Sardegna. I tempi anche della Finale Scudetto. Indossava i colori della Reggiana. 2 su 2 per della Valle. Porta 50 punti realizzati dalla Germani Brescia. Jefferson Aralampopoulos finta di consegnato. Poi nuovamente per l'attore texano. Röschlin. Combo. Il pallone per terra attacca Milan. Deciso. Appoggia al vetro. Qui Milan. Non è particolarmente aggressivo in difesa. Probabilmente spaventato dalla prospettiva di commettere il terzo fallo. Ne approfitta Combo. Dall'altra parte Petruccelli sfugge via. E tiene Brescia sul meno 5. Aralampopoulos. Tairi. Poi Jefferson in angolo. Kröschlin si accoppia con lui della Valle. Lotto di Gombo. Servito molto bene sul gioco a due. Va su deciso. Stavolta lo spaventa con il tentativo di stoppata. Miro Bilan. Christon. Si arresta. Vuole Bilan che fa sportellate con Gombo. E la francese non voleva farlo ricevere. Gran passatore dal post basso. Intanto Bilan ce lo ricorda ancora una volta. Vede il taglio di Samar Christon che ringrazia. Sarà quota 13 in questa partita. Time out in campo. 5-7. 5-4 in favore del banco di Sardegna. Con la sfida che sembra essere riniziato un po' con lo stesso canovaccio del primo tempo. Il Christon a pescare il taglio di John Petruccelli. Quindi stavolta andando invece tutto sommato bene in BCL. Chiamato al capezzale della Dinamo all'indomani. Una separazione con coach Piero Bucchi. Scorso mese di gennaio. Si torna in campo dopo il primo time out del terzo quarto per Nenad Markovic. Aralampogloss. Lascia il consigliato nelle mani di Jefferson. Poi Tyree. Uscita ancora di Jefferson. Falleggio vivo per Alex Trapani. Poi pesca là sotto. Gombo fa saltare. Mantiene la calma. Anche con il tentativo stoppata di Kenny Gabriel che incombe. Porta 5 punti di vantaggio della formazione padrona di casa. Petruccelli. Pronto a bloccare Gabriel. Si apre il corridoio centrale. Petruccelli fermato. Fa saltare la stoppata. Gombo si continua a lottare in una tonnara là sotto. Alla fine esce con la pallone in mano. E la Banco di Sardegna. Qui attenzione al fallo. Su Jefferson. On the floor. Secondo gli arbitri. Aveva pescato il jolly. Prendo Jefferson con un canestro incredibile. Sarebbe stato potenziale. Gioco da 4 punti. Su della valle. Vediamo un po'. Da capire il momento in cui è stato ravvisato il fallo. Marcovic e lo stesso Jefferson ad ampi gesti. Hanno chiesto subito il ricorso al challenge. Ora però direttamente in campo discutono gli arbitri. Ricordiamo Guido Giovannetti, Danny Borgioni e Antonio Bartolomeo. Vediamo da questa inquadratura. Qui c'è la raccolta del pallone di Jefferson. E fallo. Confermato on the floor. E dunque nulla da fare per Jefferson. Si arrabbia tanto in panchina. Markovic. Avete visto le proteste ancora del tecnico. la Dinamo che chiede agli arbitri di andare a rivedere al monitor. Dunque coach challenge 7.15 dal termine del terzo quarto per rivedere questa situazione. e chiedeva a Markovic l'antisportivo di Della Valle in particolare. e che è una volta di un'intera 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 di destro su Jefferson si torna probabilmente troppo indietro qui l'azione si andrà frame by frame direi dietro la schiena Jefferson è toccato da Della Valle poi da valutare questo intervento invece con il braccio sinistro da dietro a cercare il pallone pallo normale non c'è l'upgrade ad antisportivo come chiesto da Markovic e dunque si resta a tutti gli effetti con la decisione del campo questa è la segnalazione di Giovannetti si riparte Tyree Jefferson sulla difesa di Semash Christon sale a bloccare Gombeau short roll del francese non guarda neanche il canestro preferisce andare da Tyree la tira dall'angolo morbido a segno Brin Tyree per il 61-54 Magro si arrabbia tanto e la panchina se la prende con i giocatori vicino a sé vede il banco di Sardegna ancora accelerare questo inizio di terzo quarto Della Valle attenzione palleggio arresto e tiro dalla media distanza anche lui pulitissimo a segno a medio Della Valle per rispondere 6-1-5-6 Tyree sesto punto per Della Valle prova ad accendersi in questo secondo tempo servito Gombeau va dentro fallo qui della difesa con Gabriel che aveva provato a prendersi lo sfondamento primo fallo per Kenny Gabriel quella replay qua abbiamo panchina intanto Jefferson spazio nuovamente per Cappelletti liberi per Stefan Gombeau 10.4 di media con 5.5 rimbalzi il primo è sbagliato fino a con la 73 6% reduce dal massimo stagionale contro Venezia 22-6 rimbalzi in 22 minuti con 7 su 13 da 2 punti 0 su 2 per Gombeau allora prova ad approfittarne la Germani Semash Christon dal palleggio si propone subito in post basso Bilan contro Gombeau Bilan un'occhiata dentro si apre della valle poi gioca l'uno contro uno prova a resistere Gombeau prova a sfondare ci riesce miro Bilan e anche Gombeau dall'altra parte ovviamente stare attento a spendere il terzo fallo restringerebbe Markovic a quel punto a togliaro dalla campo entrambi provano a giocare su questo aspetto Tascacchi Aralampopoulos si arresta tiene il contatto Canestro con fallo Aralampopoulos si scrive si scrive una volta di più tra i protagonisti del match lui che era partito benissimo realizzando i primi sei punti sugli otto di squadra nel banco di Sardegna poi un po' sparito dai radar del match ci rientra ora con questo potenziale sopra da tre punti terzo fallo intanto per John Petruccelli vediamo se ha qualcosa in serbo magro libero supplementare assegno Aralampopoulos per il più sei banco di Sardegna 64-58 Criston nel duello tra i numeri zero con Cappelletti spazio per il tiro da tre punti di Petruccelli lungo Pilan con le sue leve lunghissima rimbalzo rischia quindi la violazione di passi della Valle fa in tempo a mettere in ritmo Kenny Gabriel con il tiro frontale realizzato tra le proteste nel pubblico di casa ma della Valle sembrava essere scelto a terra con il pallone in mano in extremis è riuscito a trovare Gabriel che va ad arvionare questo pallone sul taglio di Aralampopoulos poi pasticcio un po' si porta il pallone fuori Tahiri con la posizione in precedenza realizzato un tiro morbido stavolta preferisce andare da Cappelletti Aralampopoulos trova il taglio di Gioff che però non riesce a coordinarsi bene per il tiro Petruccelli fallo deciso di Aralampopoulos ferma il cronometro a 5 minuti e 2 secondi il termine del terzo quarto Milan ad aprire il gioco quasi come un playmaker lui che ha grande familiarità il fondamentale del passaggio sta per tornare Stefano Gentile secondo fallo per Aralampopoulos della Valle va in angolo Gebre l'importante da tre punti solo ferro fa il vuoto però a rimbalzo la Germani piedi a posto dopo aver fatto saltare della Valle ne sbaglia un altro Bilan in tre tempi prende il rimbalzo ma lo regala di fatto a Cappelletti contropiede per il Banco di Sardegna attenzione a Tahiri da tre punti Brintayiri per il nuovo allungo del Banco di Sardegna sulla più 7 67 a 60 punisce in contropiede la squadra di Markovic Bilan sotto fa saltare Giopp ne appoggia due al tabellone lucida Brescia non verrà subito un colpo in precedenza che adesso in transizione fanno male anche dal punto di vista emotivo Tahiri trova Cappelletti lavora sul blocco di Giopp crea separazione l'on-two Cappelletti non trova altro che il primo ferro allora della Valle meno cinque palle in mano per Brescia fisco di fallo in attacco fermata l'azione di della Valle fallo di Gabriel anzi di Miro Bilan ed è il terzo del croato di Sebenico a questo punto tornerà in panchina e infatti c'è Achele esce anche Criston per la Germani momento chiave della partita 3.59 da giocare nel terzo periodo tre falli per Miro Bilan in ultimi possessi era stato uno dei principali protagonisti per Brescia Tyree torna McKinney invece per Sassari Cappelletti in mezzo alle gambe blocco di Giopp servito sul roll trattenuto allora c'è il fallo abbiamo avuto rapporto Cappelletti mentre Giopp può andare a tirare secondo fallo per David Kwonu Giopp ferma gli undici punti dal primo tempo è ancora andato a segno nel secondo sbaglia il primo tiro libero 5 su 7 dal campo per lui con 5 rimbalzi secondo tiro libero per Giopp questo è realizzato per il nativo di Rufisca un passato a Torino e Udine in Serie A2 sempre più 6 in favore di chi difende della valle si alza per bloccare Gabriel poi prende il corridoio di penetrazione valtissimo canestrone di Kenny Gabriel senza paura contro il tentativo di stoppata e allora meno 4 Brescia questo è stato molto interessante dei punti dalla panchina un puntino interessante da una parte dall'altra Tyree per la retromarcia contro della valle lo attacca dal palleggio crossover dentro galleggia in aria sbaglia però Tyree serie di tocchi a rimbalzo l'ha rimesso sarà per la Brescia Gabriel che era rimasto a terra si lamenta Giopp però alla fine dovrà accettare la decisione arbitrale questo è l'ultimo canestro di Kenny Gabriel sotto a staccarsi da canestro una difesa aggressiva tre minuti un secondo si riparte dalla valle in punta Gabriel pronto a bloccare poi si stacca arriva Messenburg si apre sul perimetro è accoppiato con Mecchini lo attacca andando a sinistra Mecchini torna però sul pallone lo sporca va dietro e costringe Germani ad accontentarsi questa rimessa dal fondo con tre secondi punto otto per trovare il tiro ancora cambi Achele segnato per Quonu in angolo deve trovare una soluzione pesca il fallo di Usman Giopp ingenuità qui di Giopp e Quonu salvifico per la Germania in una situazione di emergenza va a contestare con troppa foga qui Giopp dovrebbero essere comunque due tiri liberi per Quonu però che non era da tre punti secondo l'indicazione di Giovannetti questo è realizzato e allora meno tre Brescia sempre un possesso pieno di venire le due squadre con Sassari che ha provato ad accelerare in questo terzo quarto e Brescia che si è tenuta in linea di galleggiamento qui attacca lungo la linea di fondo il banco di Sardegna senza successo con la pallone di Mecchini si perde discute con i suoi assistenti Markovic corretto giustamente il punteggio meno due Brescia non meno tre 6-8-6-6 allora possesso della possibile parità o addirittura del sorpasso della valle c'è il movimento di Achele il flutter bevuto dal ferro Achele per la parità 68 e qui rischia tantissimo la Dinamo sulla rimessa del tentativo di recupero da parte di Cuonu palla però è ancora per i padroni di casa 1-59 questo è il bel movimento di Achele nono punto personale per il classe 95 arrivato due stati fa da Treviso chiamato il prossimo set offensivo Capelletti gentile Giotto prova a farsi vedere ma capisce tutto qui Brescia manda in contropiede solitario della valle per il sorpasso 70 a 68 della valle col settimo punto della sua partita e ora cerca nuovamente di girare l'inerzia Brescia gentile segno di palleggi in mezzo alle gambe fa passare per il roll di Usman a segno controlla ancora benissimo il corpo della 25 bianco blu 14esimo punto per lui parità 70 della valle per Achele poi Barnell fuori tiro da tre punti Cuonu anzi Messimburg con la tripla per il vantaggio sulla più tre di Brescia 73 a 70 ultimo minuto del terzo quarto Cappelletti gentile altro tiro in corsa qui senza successo allora corre in transizione Brescia della valle Barnell ribalta in lato Messimburg piedi a posto da tre punti due tiri sei punti CJ Messimburg per il più sei Brescia parziale per la squadra di Magro 25 secondi al termine del terzo quarto Cappelletti ora momento di difficoltà per la Dinamo Cappelletti poi gran pirata e poi la pallone che esce per Mecchini prima il fallo però lui Cuonu che si dispera questo è il contatto vediamo ultima lettura lucida di Barnell Cescare Messimburg doppio assist per Ceso Barnell a beneficio di Messimburg per il più sei Brescia 12 secondi 8 Cappelletti in lunetta con due tiri liberi prima realizzato il meno 5 lo sguardo di Bilan in panchina Brescia messo e sta avanti comando anche il massimo vantaggio con le due triple di Messimburg accorcia Cappelletti ora sul meno 4 fuori a Kele forna Gabriel Messimburg sulla rimessa della valle difesa di Tayri dietro la schiena della valle la tripla per aria sbagliata poi Messimburg col tentativo di correzione volante senza succedere sul più sei a un certo punto poi i liberi di Cappelletti hanno permesso al banco di Sardegna di rosicchiare qualcosa 28-19 il parziale del terzo periodo per la Germani si torna sulla parquet per l'ultimo quarto Cappelletti Jefferson Aralampopulos Tayri e Job per la Dinamo Messimburg Achele Cuonu Gabriel e Christon invece per Brescia fischio qui a penalizzare ancora la difesa di David Cuonu e addirittura il quarto personale per il playmaker ex Cremona tra le altre David Cuonu è stato un fattore molto importante 12 punti 100% dal campo 4 su 6 liberi Cuonu che però è richiamato in panchina dal suo allenatore con 4 fadi a carico messa in attacco per la Dinamo Cappelletti per Job può attaccare Barnell vicino a Canestro movimento di potenza per Job Barnell sporca il pallone da dietro si smita sul perno Job gran Canestro per Usman Job si è abituato a conclusioni una situazione di roll profondo andando a esplodere spesso a Canestro questa volta ci fa vedere qualcosa di diverso ovvero movimento con i fondamentali di post basso meno 2 Banco di Sardegna attacca Brescia Gabriel schiaccia Spagna Canestro per Barnell contro Tyree per vantaggio fisico nel mismatch Gabriel aperto da 3 punti secondo ferro rimbalzo per Tyree fa correre subito Cappelletti si butta dentro Cappelletti riapre Aralan Populo spiedi a posto da 3 il pallone fa in e out raccoglie Gabriel e poi già rimesso in marcia Semash Christon vuole sfruttare anche lui il mismatch una volta contro Jefferson giro sul perno a segno non arriva l'aiuto e allora ne approfitta Semash Christon col canestro del più 4 ripristinato dalla Germani quindicesimo per Christon in 19 minuti anche 3 assist per lui Cappelletti servito Job si porta a casa il ferro Usman Job e sui roll è un problema per tutte le difese meno 2 78 a 76 si aspetta in queste premesse una gran bella ultimo quarto parte verso destra Messinburg fuori per il tiro da 3 punti di Gabriel importante secondo ferro a rimbalzo a ragione Achele che però non riesce a correggere ultimo tocco è di Brescia comunque rimessa per il banco di Sardegna qui errore di Achele che si perde totalmente Job chiede timidamente anche un fallo qui Usman Job non accontentato nuovamente Petrucelli sul parquet ricordiamo con 3 falli a carico 18 punti 5 rimbalzi 6 falli subiti per Job Capelletti Aran Populos restituisce al suo playmaker Roll ancora di Job stavolta capisce tutto Messinburg e si lancia dall'altra parte Eurostep andrà in lunetta con due tiri liberi CJ Messinburg prova a trascinare Brescia in questo finale di partita dopo le due triple strisciata del terzo quarto inizia deciso anche in questo momento il giocatore da Dallas Barnell che era andato poi a seguire per la correzione ma fallo era arrivato prima solo a tentativo di Messinburg e intanto si va a controllare all'instant replay l'ultima situazione perché il fallo di Aralan Populos qui arriva anche Cappelletti da dietro vediamo un po' questo è il fallo proprio nel momento in cui Messinburg raccoglie il pallone si valuta proprio questa spinta direi di Cappelletti da dietro abbiamo la decisione fallo antisportivo punita la spinta di Cappelletti alle spalle di Messinburg al momento del tiro perplesso Cappelletti lo vedete inquadrato e Giovannetti va a spiegargli la decisione in lunetta Messinburg il primo libero è realizzato per prodotto di Buffalo University 82,3% in stagione ai liberi più 3 Brescia 7,9 7,6 diventa più 4 in virtù della 2 su 2 l'ex Limoges panchina ancora della valle in questo momento delicato della partita 4 e possesso aggiuntivo per la capolista il riblocco di Achele taglio dentro di Barnelli ignorato Petrucelli fuori Criston in mezzo alle gambe contro Cappelletti prende il jumper dalla media senza successo e poi c'è l'autocanestro praticamente di Job per il più 6 Germani ripristinato Cappelletti fortunato Job che era andato a contendere il rimbalzo Tyree serie di palleggi Cappelletti in angolo Jefferson attacca e recupero poi dall'altra parte Aralan Populo si impunta si torna da Tyree allo scadere di 24 secondi rimbalzone di grande energia da parte di Messimur che avete visto della valle lo frena praticamente con Messimur che era pronto a esplorare la transizione vuole lavorare invece col cronometro magro Achele pallone dentro per Petrucelli attaccato da Jefferson altro mismatch fallo in attacco di Petrucelli ed è il quarto anche per lui un po' di trash talking con Jefferson abbiamo visto il replay ed è arrivato un doppio fallo tecnico per Jefferson e per Petrucelli a questo punto è fuori dalla partita ma a sedersi si sta accendendo la gara anche dal punto di vista agonistico sotto stress anche gli arbitri per una gara che sta diventando complessa a bitrare sta salendo il livello dei contatti sta salendo anche il nervosismo richiamato al tavolo ancora Giovannetti fuori dalla partita Petrucelli conclude con 7 punti 3 su 6 da 2 0 su 1 da 3 3 rimbalzi 3 su 7 complessivo dal campo si trova a calmarlo magro tacca intanto il banco di Sardegna Aralampopoulos segnato per Cappelletti ancora Aralampopoulos circolazione perimetrale Krushlin Cappelletti nel blocco di Job resta con Cappelletti Achele partenza qui viziata dai passi per Tahiri palla persa dal Dinamo canta ancora il pubblico in Brescia presente in buonissimo numero questo G.A. Sassari va affrontare questa lunga trasferta un momento di grande entusiasmo ovviamente per la Germani capolista con merito assoluto in questa serie a unipolsi Tai Messimborg fino in fondo con gran decisione per il più 8 ora 84 76 nuovo massimo vantaggio nella partita per Brescia time out Marco 4 anche per Brandon Jefferson dopo il fallo tecnico in precedenza anche lui è andato a sedersi in panchina Capelletti l'uscita di Tayri piazza il blocco Aralampopulos in punta c'è Capelletti blocca a sua volta Job poi Aralampopulos ad attaccare il recupero arma alla mano di Tayri da tre punti sketch il primo ferro poi più veloce di tutti e Parnell già dall'altra parte attende l'arrivo dei compagni c'è ragione per forzare può amministrare forte del più 8 la Germani con Semash Christon tende l'uscita di Della Valle dal blocco lo prende però d'anticipo Krushlin allora si deve inventare qualcosa lo scadere di 24 CJ Messinburg fuori Della Valle tripla da distanza siderale secondo Ferro Tayri col box out Aaron Batz pronto a ripartire a testa bassa dall'altra parte batte Messinburg in angolo Krushlin fuori Aralampopulos buona transizione difensiva qui per Brescia che non ha concesso punti facili Cappelletti va verso sinistra lo accompagna fuori Achele ancora difesa molto competente di Brescia risolve o almeno ci prova dopo il nuovo giro offensivo Philippe Krushlin senza successo resta sul meno 8 Sassari che come vedete in grafica non segna da 3 minuti e 30 secondi Della Valle scappa dentro Achele qui intercetta Tayri che parte dall'altra parte transizione in sovranumero Cappelletti da 3 lungo con il tiro che sarebbe stato importante Sassari che sta un po' calando dal punto di vista delle percentuali da 3 punti che erano state altissime nella parte precedente del match Criston sul blocco di Messimburg pallone vicino a canestro Achele uno contro uno con Job che canestro di Achele che si libera di Job con la gran finta parziale aperto di 8 a 0 e per la prima volta sulla più 10 vantaggio in doppia cifra per Brescia linea di fondo Job prova a far uscire il pallone sporcato di mezzo dal fondo per Sassari 4 e 17 da giocare inerzia totalmente nelle mani di Brescia time out in campo questa volta a Unipolside tanti protagonisti diversi nei vari momenti nella match da Criston a Cuonu lo stesso Achele è arrivato anche lui in doppia cifra con 11 punti Messinburg nel terzo quarto le soluzioni che hanno permesso anche di sopperire fin qui alla serata non perfetta di Willan condizionato anche dai falli 6 punti per lui comunque con 7 rimbalzi Krushlin qui va a lottare da terra prima con lo scadere del cronometro c'era stata la chiamata di palla contesa da ogni modo la freccia che segna il pallone a Brescia pensieroso Markovic la sua squadra ha perso qualcosa in termini di brillantezza pensa le prossime soluzioni il tecnico bosniaco più 10 polli in mano per Brescia con Semash Criston Criston tornato in campo Jefferson con 4 falli va dentro Criston trova Akele fuori ancora da Criston invitato al jumper dalla media lo prende con qualche esitazione di troppo lo sbaglia Grushlin rimette in moto Tyree attacca nel cuore dell'aria poi cerca e trova Alan Populos fallo di Della Valle è il terzo personale per Amedeo Della Valle Fuori Grushlin dentro McKinney vuole più talento offensivo e in questo momento Markovic si apre a Alan Populos in punta Jefferson fuori ancora Alan Populos da 3 sfortunato al momento del tiro la stoppata di Barnell su McKinney ma prima c'è del fallo dallo stesso Barnell ancora con faccia cattiva grande agonismo per Jason Barnell da dietro a cacciare via il pallone di McKinney ma secondo gli arbitri c'era anche una spinta che manda in lunetta Alfonso McKinney giocatore finalista in BNL 2019 con la carota dei Golden State Warriors segna il primo McKinney terzo punto personale sbaglia il secondo tiro libero sposta sul meno nove la Dinamo della Valle sposta sul perimetro Barnell sale a bloccare Bilan tra Valle vuole il pallone ovviamente per mettere in difficoltà combo poi vada Barnell il pallone sotto per Bilan sbaglia è stato ovviamente di Christon il pallone dentro in precedenza della Valle fuori ancora un tiro da tre punti per aria sbagliato della Valle tocca rimbalzo recupera poi Tyree che va in campo praticamente aperto con Barnell che prova a contestare senza però riuscire a metterlo in difficoltà e allora Manarayer Venezia arriva da una vittoria Brescia in casa contro Scafati nell'ultima trasferta però era inciampata a Pesaro ha mostrato qualche segnale di stanchezza insomma nell'ultimo periodo Barnell ovviamente Christon sull'attacco di Tyree ora della Valle diceva ancora Semash Christon chiede il pallone Villan per il mismatch contro Aralampopoulos fallo del Greco ed è il terzo per Basilis Aralampopoulos Messinburg sulla rimessa Christon si confone Barnell ricacciato indietro da Christon vuole sistemare le spaziature attacca Job long two per aria sbagliato rimbalzo offensivo catturato ma solo per un istante da Messinburg poi Tyree fermato fallosamente dallo stesso CJ Messinburg tra andare dalla lunetta Brin e Tyree cinque partita da quindici furzi per lui con 3 su 6 da 2 2 su 5 da 3 3 su 3 ai liberi c'è anche cinque rimbalzi e due assist primo è dentro per Tyree 68,4% prima di questa partita per lui questo 4 su 5 resta sulla più 6 la Germani quindi due minuti e dieci secondi della match della valle piazza il blocco Bilan qui a un passo dal recupero Job poi riesce in realtà nell'intento e va a chiedere un fallo antisportivo che è segnalato infatti da Giovannetti antisportivo su Job con una grande foga a cercare questo pallone avete visto chiaramente Magro fa ricorso al challenge vedremo se ci sarà la segnalazione di fallo normale o di fallo antisportivo dopo questo ricorso all'instant replay questo è un intervento di Della Valle pallone sporcato da Job si resta con la decisione si resta con la decisione del campo il pallo è antisportivo per Della Valle tra l'altro il quarto per lui e allora ci prova Sassari due minuti e tre secondi alla termine il sorriso di Job che va in lunetta con questa nuova opportunità segna il primo Job tre su quattro qui ai liberi attenzione sul volto del patron della Dinamo Stefano Sardara secondo libero per Job poi ci sarà anche il possesso fa pieno il suo dovere Job firma il meno quattro Sassari 86 a 82 rimessa in seguito da Tyree per Jefferson questa volta il momento di siccità offensiva lo accusa la Germani McKinney handoff per Tyree attacca Della Valle con quattro falli va fino in fondo sbaglia correzione rimbalzo però si arriva prima di tutti Usman Job attenzione almeno due 86-84 e selva di fischi assordanti per questo attacco della Germani Messinburg verso destra linea di fondo per Christon riapre Della Valle importante da tre punti in e-out rimbalzo di Aralampopoulos e subito pallone nelle mani di Tyree che può attaccare per il pareggio potenziale del banco di Sardegna Jefferson sulle setrecce c'è Della Valle si allontana Job step back Jefferson da tre punti c'è il fallo sul tiro da tre punti ed è il quinto di Della Valle che corre in panchina per evitare di incappare anche in un fallo tecnico a questo punto attenzione alla Dinamo che non muore mai sul più dieci breccia un partita sembrava aver trovato un chiaro indirizzo qui con testa della Valle con troppa foga secondo gli arbitri tre tiri liberi per Brandon Jefferson il primo è realizzato possibilità dunque del sorpasso ora meno uno col primo tiro libero secondo libero anche questo dentro e allora parità firmata Jefferson a quota 86 a 1.17 dal termine e ora la chance del sorpasso per la point guard da Flower Mound Texas tre su tre non trema la mano di Brandon Jefferson sorpasso banco di Sardegna 87 a 86 parzialone per la squadra di Markovic e Brescia che ci prova senza più Petruccelli e della Valle Christon per Achele attacca forte c'è il fallo di Mecchini deciso qui il fallo di Alfonso Mecchini scatto sulla roll Achele Bobicek saranno due a cronometro fermo per il giocatore Trevigiano 64 4,8% Markovic dare istruzioni a Jefferson Achele col primo tiro libero sbagliato resta sul più uno Sassari ancora fischi assordanti dal palazzo Radimini secondo libero Nicola Achele 0 su 2 si avventa sul rimbalzo nello strappa di mano però Jefferson e c'è anche il fallo di Achele impazzisce il pubblico di Sassari andrà a tirare Brandon Jefferson si dispera Achele Barnell va a rincuorarlo 0 su 2 in un momento cruciale del match ancora un minuto e tre secondi però da giocare torna in lunetta Brandon Jefferson dopo il 3 su 3 in precedenza punita questa spinta di Achele alle spalle è un catino bollente ora il palazzo Radimini Jefferson segna sale a quota 12 punti nella sua partita più 2 Banco di Sardegna possibilità di andare su un possesso pieno di vantaggio a Dinamo soltanto pochi minuti fa era sotto 86 80 e poi il parzialone qui rischia tantissimo Christon riapre fuori Messinburg la tripla a segno CJ Messinburg glaciale time out in campo con la panchina di Brescia che con tantissima foca nell'entrare in campo dopo la tripla del compagno ha buttato giù il tabellone LED a bordo campo questa la tripla da campione CJ Messinburg parità 89 time out in campo partita incredibile ha sonnecchiato per larghi tratti del match al primo tempo Messinburg poi si è acceso dopo la 4 si riparte dopo la tripla mandata a segno dalla guardia di Dallas Jefferson va al palleggio Brandon Jefferson si sposta sul perimetro McKinney a bloccare Job Jefferson lo show di Akele consegnato poi per Tyree 7 secondi per il tiro Tyree che attacca Barnell crea separazione per il tiro dalla media distanza solo ferro si avventa sul rimbalzo Akele lo strappa via e poi porge il pallone a Semash Christon discrepanza di circa 3 secondi tra i due cronometri attacca verso destra Christon poi va in angolo e ancora Christon ad attaccare Tyree il giro sul perno manda per aria il tiro sbagliato e non di poco 5 secondi per il tiro del banco di Sardegna palla in mano a Brandon Jefferson si arresta da 3 punti Jefferson corto Job non riesce a correggere e allora sarà overtime al palacerra di Migni partita pazzesca a Sassari con la fuga di Brescia la risposta di cuore della Dinamo Messinburg invece a mandare la sfida al supplementare al palacerra di Migni si riparte con Cappelletti Maralan Populos Jefferson McKinney e Job 25 di Markovic dall'altra parte invece Brescia senza Petruccelli e della Valle schiera Buonu Achele Barnell Christon C.J. Messinburg Jefferson a inaugurare questo overtime con il primo possesso McKinney consegnato per Cappelletti pallone sotto per Job tiene contatto e appoggia al vetro punti del più 2 Banco di Sardegna 91-89 24 per Job Senz'altro una delle migliori prove in questo campionato per il centro senegalese che va a disturbare Messinburg Achele per Christon vede Messinburg il pallone però è troppo profondo falla persa per la Germani non un grande attacco un approccio all'overtime per il quintetto di Magro Jefferson va verso sinistra rapidissimo tira in controtempo c'è il fallo qui nella difesa e in particolare di Jason Barnell provato a proteggersi con la ferro Jefferson questo è l'ultimo canestro di Job quello che è inaugurato questo tempo supplementare due liberi per Jefferson 13 punti fin qui per lui continua la sua striscia positiva ai liberi con questo sono 6 su 6 14esimo punto ha dato una scossa senz'altro Jefferson trasbaglia il secondo tiro libero comunque più 3 in favore di chi difende Cuonu sulla pressione difensiva di Mecchini il pallone arriva a sbaglia a canestro per Barnell mismatch contro Jefferson molto invitante sbaglia però la conclusione Barnell Brescia che improvvisamente ha perso un pizzico di lucidità in attacco Jefferson contro Messinburg piazza il blocco Job qui capisce tutto in anticipo la difesa di Brescia Messinburg dall'altra parte fuga solitaria in contropiede per il meno 1 9-2 9-1 CJ Messinburg peraltro curiosità anche lo scorso anno la sfida della pallasera di Mini tra queste due formazioni andò all'overtime appassionante anche questa sera Jefferson Meccini poi Cappelletti attacchi recupero braccio esterno fallo in attacco falla persa dalla Dinamo in questo fallo offensivo di Cappelletti col terzo personale situazione che non era sfuggita magro proprio là davanti provato subito a far notare agli arbitri il contatto falloso esce Cappelletti rincuorato assistenti di Marcovic in panchina qui abbiamo rivisto l'ultima segnalazione Cuonu ricacciato indietro Bilan sale a prendersi il pallone Messinburg e poi cercato Bilan spalla canestro contro Jopp che prova a resistere nell'uno contro uno manda per aria il suo classico gancetto qui Nero Bilan senza successo però resta sul meno uno Brescia si ripresenta dall'altra parte Brin Tyree copiato con Messinburg risposta sul perimetro Jefferson Tyree per Jopp guarda il canestro e la mette dalla media distanza un tiro non semplicissimo per lui protegge l'aria Bilan paga questa scelta con i punti del più tre Sassani 9-4 9-1 Barnell dentro da Bilan fermato da McKinney fallosamente segnalata la spinta quindi McKinney mentre rivediamo l'ultimo canestro di Jopp cercava qualcuno sul lato debole si accorge di essere sostanzialmente da solo non si può esimere punto numero 26 per Jopp in lunetta Miro Bilan qualche difficoltà questa sera come detto anche a causa dei problemi di falli va a tornare protagonista ma prima da ex a Sassari dove è amatissimo ma ora non mancano i fischi per lui sbaglia il primo Bilan secondo libero per il croato di Sebenico due parentesi diverse a Sassari per il 2019 2021 e poi ancora per il 2022 qui c'è la segnalazione di passione allora resta lì Bilan altra possibilità per lui portare sul meno due Brescia 20 al termine segna Bilan per il meno due Tyree si muove sul perimetro Jefferson splitta qui Tyree che schiacciata per Brin Tyree l'highlight della partita e forse della settimana per il più quattro Dinamo Messenburg per rispondere step back fa saltare Aralan Populo si appoggia vicino al canestro dove c'è Job che maltratta Bilan nel uno contro uno perché vuole ovviamente spendere il fallo ci riesce qui la magia di Tyree si scansa Quonu perché era già decollato Brin Tyree sullo split in mezzo al gioco a due legge benissimo Lexus stand torna in lunetta Bilan due tiri liberi ritira con il 64,5% in stagione e anche questo va dentro secondo consecutivo meno tre Germani ancora Bilan segna con qualche patema il secondo poi richiamato in panchina c'è Achele questo possesso difensivo Jefferson sulla rimessa riuscito a gestire anche la situazione falli ne ha quattro a carico da tempo Tyree Aralan Populos vicino al canestro Job contro Quonu il mismatch qui la stoppata da dietro di Jason Barnell che capisce in anticipo le intenzioni di Job quindi vediamo aspetta Barnell qui con intelligenza tanto Tyree sulla tiro da tre punti e poi recupera frugando nella spazzatura della partita Usman Job 28 personali e ovunque Usman Job più quattro sassari Barnell Messinburg attacca forte verso il centro dell'area un'autostrada per CJ Messinburg è ancora inabilico il risultato 1 e 10 da giocare Tyree c'è il cambio con Achele accettato Tyree lo attacca crossover mano sinistra sfiora il potenziale gioco da tre punti andrà in lunetta con due liberi Tyree spesso incontenibile in situazione di uno contro uno ancora di più per Achele in questo mismatch piuttosto scomodo per il 45 della Germani questo l'ultimo canestro di Job un rilascio un passo dalla doppia doppia Job mancano due rimbalzi un controtempo Messinburg sono 19 invece per lui quasi tutti nel secondo tempo segna il primo libero Tyree un possesso pieno di vantaggio ancora per Sassari 19 più 3 più 5 rimbalzi per Brin Tyree ora diventano 20 ultimo minuto Messinburg pallone fuori Cuonu importante da tre secondo ferro Mecchini poi si porta il pallone fuori riesce ad arpionare il rimbalzo e offre questa opportunità offensiva alla Germani vuole approfittare intanto rivediamo le più belle giocate della partita sono la più bella pallone in gioco tiro da tre punti ancora aperto e ancora sbagliato però dalla Germani Jefferson per approfittarne 34 secondi ancora dal palleggio Brandon Jefferson sulla difesa di Cuonu sale a bloccare Job accetta il cambio Bilan vediamo come l'attacca Jefferson step back da tre punti Jefferson manda tutti manda tutti a dormire anche stasera la Dinamo sente il profumo di vittoria 20 secondi e 9 decimi dal termine time out in campo più 7 banco di Sardegna che ha visto l'inferno sul meno 10 ma non ha mollato è tornata sotto si è vista raggiunta è portata all'overtime da una Germani che non ci stava assolutamente a lasciare i due punti nell'isola poi è sembrata fin qui averne di più nel supplementare la squadra di Markovic più 7 a 20 secondi e 9 decimi con questo pallone avanzato con la disposizione di Semash Christon fa disturbarlo Aralan Populos serve ovviamente un tiro da 3 punti rapido per la Germani che vada a Messinburg 18 secondi si butta dentro c'è il fallo di Jefferson la scelta è di non concedere un tiro da 3 punti il posto di mandare in lunetta in Messinburg c'è anche il pallone da dietro Jefferson trova il gomito dell'avversario qui rivediamo lo step back potenzialmente decisivo di questa partita accolto dal batti mani del pubblico nella rientra in panchina di Jefferson Messinburg segna il primo e raggiunge il ventello 17 per Jefferson farà un'opportunità per CJ Messinburg gran protagonista della seconda metà di gara per la Germani fa 1 su 2 Achele però assicura il rimbalzo e poi il tiro da 3 punti assegno Messinburg per il meno 3 non è ancora finita 103 a 100 ci crede ancora Brescia CJ Messinburg errore col secondo libero il più reattivo a rimbalzo è Achele tripla immediata e time out qui l'errore Achele bravissimo perché intuisce subito la traiettoria a rimbalzo glaciale Messinburg c'è ancora vita per la Dinamo ultime raccomandazioni in zona difensiva per coach Magro Cappelletti sul pallone va subito spalla canestro da Aralampopoulos immediato il fallo di Kenny Gabriel manda in lunetta il greco di Egaleo per ricacciare indietro l'assalto della Germani con questi due tiri liberi ex Pauke Panatinekos Massilis Aralampopoulos per ristabilire due possessi di vantaggio di Sassari primo tiro libero realizzato per Aralampopoulos decimo punto anche lui in doppia cifra come detto sono due possessi ora di vantaggio per il banco di Sardegna anche il secondo va dentro più cinque palla nelle mani di Messinburg alla ricerca di un tiro rapido attenzione al fischio di Borgioni per segnalare il fallo di Tyree qui in comprensione probabilmente con la panchina Tyree che manda il luneta Messimur ma probabilmente non era ciò che voleva Coach Markovic che se l'è presa non poco due liberi per Messinburg che sbaglia il primo errore che può star caro alla Germani 9 secondi e 1 ancora Messinburg questo è realizzato per il meno 4 sempre due possessi però di vantaggio per il banco di Sardegna che ha qualche problema su questa rimessa rischia tantissimo l'ultimo tocco però è di Semaj Christon che si dispera voleva lui la rimessa si va a valutare la paternità di questa rimessa al monitor perché non era convinto Achele non era convinta a Brescia Markovic ancora qualcosa da dire a Tyree per l'ultima gestione dei falli 7 secondi e 8 alla termine ultima camera in basso a destra questa quella che ci può dare una risposta difficilissimo c'è un momento in cui entrambe le mani toccano il pallone poi probabilmente per ultimo col gomito Christon proprio alla fine anche se non capiamo da questa inquadratura se il pallone era già uscito a quel punto oppure no si resta anche qui con la decisione del campo dunque la rimessa sarà per Sassari 8 secondi e mezzo più 4 palle in mano per il banco che però ha rischiato sulla pressione della Germani della rimessa precedente Cappelletti prova a smarcarsi Tyree qualche problema ancora deve arrivare in soccorso Mecchini pallone buttato attenzione ad Achele il pallone in angolo Messimburg da 3 corto Cappelletti poi sul rimbalzo scorre il cronometro fermato a 3 secondi e 2 decimi si dispera Cappelletti il rischio incredibile corso da Sassari nel Messimburg dall'angolo per poco non portava i suoi suoi almeno uno pressione da manuale per la Germani si è conquistata il tiro per aprire totalmente la partita ora Cappelletti per chiuderla più 5 cospiro di sollievo per Markovic 106 a 101 discute Jefferson con Gentile secondo libero per Cappelletti sbagliato rimbalzo di Gabriel e poi il tentativo di Cuono finisce così al Palazzo Radimini vittoria nel banco di Sardegna 106 a 101 all'overtime dopo una partita bellissima prosegue la striscia positiva del banco di Sardegna terza vittoria consecutiva dopo la Virtus Bologna dopo la Reier Venezia vittima della squadra bianco-blu anche la capolista Germani che accusa qui nel Sardegna la sesta sconfitta stagionale finale palpitante con la gran rimonta del banco di Sardegna sotto di 10 sembrava essere già indirizzata sui binari della Germania il match poi la reazione e la parziale Sassarese guidato da Tyree da Jefferson la rimonta la risposta poi di CJ Messenburg per mandare la partita all'overtime ma alla fine ne ha avuto di più la Dinamo che ha rischiato poi anche di complicarsi la vita nella finale undicesima vittoria stagionale per la squadra bianco-blu che sale a quota 22 punti in classifica e rilancia ulteriormente le proprie quotazioni in ottica playoff questo è il festeggiamento di Markovic con la squadra giocatore che ha imposto una disciplina ferrea ai suoi ma non mancano insomma anche i momenti come questo di gioia spensierata finisce con i 24 di Messenburg in casa Brescia con i 28 di Job con otto rimbalzi per il banco di Sardegna 20 di Brintairi 17 di Brandon Jefferson 11 per Vassili Saralan Populos una partita bellissima con le due squadre si sono date grande battaglia tra poco al nostro microfono Brintairi Brintairi Per andare, magari, per i play-offs, come funziona? Significa molto, il nostro lavoro non è finito, abbiamo ancora molto da fare, ogni team in questa league è davvero davvero buono, ma siamo felici di ottenere questa vittoria. Grazie mille. Molto felice di questa vittoria, Brin Tyree, che non vuole però perdere il focus, c'è da continuare a lavorare, ovviamente, Dinamo che torna a respirare l'aria della zona play-off, ma torna a continuare così, secondo il giocatore uscito da Ole Miss, ha trovato ancora il modo di essere decisivo e ci ha regalato questo highlight della serata, con la gran schiacciata dopo il gioco a due, passando in mezzo. In breve dovremmo avere anche Nenav Markovic, coach del Banco di Sardegna, come detto, undicesima vittoria stagionale, con questi numeri che ho detto in grafica, 62% da due punti e 40% da tre, dato che si è progressivamente abbassato per il bianco-blu. L'altra parte, 8 su 24 dall'arco e 29 su 48 da due invece per la Germani. 37-31 il dato a rimbalzo per gli uomini di Magro, però hanno perso lucidità nel finale, hanno perso della valla e Petruccelli, sono riusciti a chiudere la zannare definitivamente la Preda dopo aver avuto la partita in mano sulle più 10. Il grande cuore della Dinamo ha avuto la meglio. E allora, 106-101 il finale, terza vittoria consecutiva. Su questo campo un'altra vittima eccellente, era caduta anche l'Olimpia Milano a dicembre, poi la Virtus Bologna. Un ultimo turno a casalingo, il blitz di Venezia, tra qualche istante Nenad Markovic, donatore del Banco di Sardegna. Cosa, 45 minuti ago, hai detto che vittima in Brescia è stato così difficile, perché sono i primi in una stanza, ma probabilmente oggi eri più forte. Quale avevi più forte? Sì, credo che la maggior parte del gioco, in particolare la prima halfa. E' vero, non ero più felice con la nostra differenza. Credo che la nostra differenza è stata buona, abbiamo scoperto 52 punti, ma abbiamo ricevuto molto semplice in dei punti, in dei situazioni che abbiamo lavorato e cercato di preparare. c'è stato un momento nel gioco in cui abbiamo scoperto completamente e hanno avuto 10 punti, ma abbiamo bisogno di dare credito ai giocatori, perché hanno davvero scoperto, hanno mostrato il carattere, e questi fantastici fanci hanno spostato il team, nel fine dei momenti cruciali per ottenere questa vittoria. Credo che sia un'ottima vittoria per noi, una terza in giro contro tre top team in la Liga, quindi vediamo, ora è una storia diversa. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti. Va bene. Molto contento, Markovic ha sottolineato il fatto che dopo i primi 20 minuti non era granché contento della difesa della sua squadra, che si aveva realizzato 52 punti, ma aveva concesso troppo su situazioni che erano state preparate in allenamento, su tagli, ma troppi canestri facili. In generale, poi, la squadra immersa nel secondo tempo ha mostrato grande carattere, trascinata anche da un grande pubblico, una vittoria molto importante, la terza consecutiva contro tre grandi squadre, perché un altro dei temi era proprio questo, sembrava essere un ciclo terribile sul calendario del Banco di Sardegna, che invece porta a casa sei punti, affrontando in serie la Virtus Bologna, la Reior Venezia e la capolista Germani Brescia, Durante la Settimana Santa, l'isola si avvolge di mistero nella tradizione dei diritti tramandati, di generazione in generazione. Scoprite la magia che precede la Pasqua. Conto Banco di Sardegna Online Approfitta della promo Apri subito il conto online Più facile, più veloce Da oggi puoi scegliere Inquadra e apri il conto Banco di Sardegna Passa a Tiscali Mobile 120 giga, minuti illimitati e 100 sms a soli 7,99 euro al mese E la spedizione della Sima è gratis Chiama il 130 Grazie a tutti in derится